via via o acquisto capa bohman mamma mia che scarsa della scuola la scuola guarda che c'è stato Cosa cazzo è successo? Vieni da muore? Che scarcio del cazzo Ho fatto una cagata Dai, fin il vero senso della parola, cazzo Ma veramente l'ultimo invece? E chi sei cartone, cazzo? Non lo so Ma è riuscito Sono morto dopo, cazzo Perché non lo giochiamo full time Cioè io almeno prendo sempre i talenti da Shepard Però come Shepard fa un po' cacare No, avevo preso il bloc io No, cazzo Best ultimate per lui di Sì Ma come cazzo ho fatto? Ah no, non so Ho un po' basso di daifu Andiamo io una mano a Luisa No No, non ris- eh, eh, addirittura Ma fai il culo! Ma fai il culo! Aiuto! Aiuto! Banda di merda! Lo ammazzo! Lo ammazzo! Che succede? Che succede? Aaaaaaah Aaaaaah 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 Fai la che le ammazzo tutti i due Ah Dai ma per favore Uno E due Gc? Ci ballo pure, guarda Guardate i tc, guardate i tc Surprise, motherfucker Eeeh Si Si Quindi? Eeeh Scusa? Going somewhere? Problematici Nooo No ma questa partita ha prendo il boda Poi Madonna staccazzo di nova E' venuto i coglioni Si Hai visto? Si Ah Sai Vabbè Vaffa Occhio Guardalo, guardalo, guardalo Oh, ce l'ha fatto a sbottare Guardalo! Oh Sei tu che comparto la scheda video nuova? No Ok, allora vaffa tuo Ah, grazie Ah, prego Anche se non so chi sei ma prima pelle Però ti voglio bene in realtà No vabbè, ti credo Vabbè, prima pelle Lo vuoi un pompino? Ti lo so che ci conosciamo da poco però, cioè Poi mi mette a disagio queste cose, te la faccio magari dopo Se hai la barba no però Se la fa la barba ti puoi anche bendare, così puoi immaginare quello che vuoi Anche Sara Tommasi No 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 hhh